Eccoci qua, abbiamo ufficialmente concluso l'annata 2022, questo infatti è stato l'ultimo appuntamento della Juventus in questa annata, il prossimo appuntamento sarà appunto una partita ufficiale, non più un amichevole, ma una partita ufficiale di Serie A il 4 di gennaio a Cremona contro la Cremonese. Oggi si interrompe una striscia di imbattibilità legata alla porta che durava da un po' di tempo a questa parte, però secondo me è stupido dare continuità alla striscia di imbattibilità negli amichevoli, così come è stupido parlare di striscia interrotta negli amichevoli, credo che non sia da considerare, credo che sia giusto prendere in esame in considerazione soltanto le partite ufficiali, quindi rimaniamo sul fatto che in Serie A non si prende gol da sei gare, in Champions invece gol si è preso eccome, nei amichevoli mettiamoli da parte, credo che oggi sia stata comunque l'amichevole più divertente in assoluto delle tre disputate dalla Juventus in questa pausa invernale, in questa pausa mondiale, e già questo credo che sia tutto un dire, perché comunque non è sicuramente stata una partita ricca di emozioni, diciamo così, però è stato un modo come un altro di passarsi un paio d'ore durante questo pomeriggio, quindi ancora una volta, se ve la siete persa, un po' sulla falsa riga di quelle con Arsenal e Reca, non succede niente, potete non recuperarvele, magari guardatevi gli highlights che verranno riproposti sulle varie piattaforme, noi ce la siamo guardate su The Zone, ma penso che anche il canale YouTube della Juve, i social della Juve, andranno a ripubblicare i gol, c'è stato un gol annullato per fuorigioco a Ken nel primo tempo su un bel cross di Ache, che va a giocare esterno-destro nella difesa 3 al posto di Quadrado, e qui credo che si possa aprire anche una bella finestra di dialogo legata eventualmente al mercato invernale, perché tante volte si è fatto il nome di Kasdorp, che poteva avere dei problemi anche la Roma, beh, credo che con Quadrado che dovrebbe tornare, con Ache potrebbe essere il vice con Barbieri, che comunque qualcosa di interessante ha fatto vedere in queste partite, con Sule che è stato ruotato in quella posizione, con Desciglio che dovrebbe rientrare, e con forse anche Chiesa che potrebbe fare quella cosa lì, forse a questo punto non ha nemmeno senso andare sul mercato a prendere un ennesimo giocatore che ti va soltanto a riempire il buco senza essere clamoroso, quindi Kasdorp per me passa abbastanza nel dimenticatoio, la voce Kasdorp passa abbastanza nel dimenticatoio, e invece sulla sinistra poi te la giochi con Kostic, con Ealing, con lo stesso Chiesa, e ancora una volta con Desciglio, quando mai deciderà di tornare un giocatore della Juventus, penso che bene o male sugli esterni, non c'è chissà che cosa a livello di qualità probabilmente per il ruolo, per il reparto, però a livello numerico bene o male ci siamo, e quindi non credo che si andrà a intervenire sul mercato, invece dietro secondo me ancora qualcosa si dovrebbe fare, perché oggi abbiamo rivisto il terzetto dei brasiliani, infatti la formazione era Scesni, i tre brasiliani, Alexandro, Danilo, con Bremer centrale nella difesa 3, i due esterni erano appunto Kostic e Ache, a centrocampo abbiamo avuto Locatelli in cabina di regia, autore di una buona prestazione secondo me Locatelli, probabilmente migliori in campo della Juventus oggi, con Miretti sul centro-sinistra anche se leggermente più spostati in avanti, McKennie sul centro-destra anche se molto più vicino a Locatelli in determinati momenti della partita, e Ken che attaccava la profondità e Milic in rifinitura. Ora, partita un po' così, nel primo tempo la Juve parte bene, secondo me è pimpante, aggressiva, nella prima metà del primo tempo va vicino al gol appunto con Moise e Ken in un paio di occasioni, c'è la volontà di provare a far male allo standard lieggi e poi non ci si riesce, anzi vengono fuori loro, noi molliamo completamente, nella seconda parte del secondo tempo veniamo abbastanza dominati dal punto di vista del possesso palla, e forse anche delle occasioni, c'è anche da parte loro una traversa, un tiro fortissimo, c'è appunto il gol su un'uscita sbagliata di Scesni e quindi ha avuto gol di Danilo che la tocca di testa contro Periza, c'era un po' di ex Serie A, c'era appunto Periza in attacco da loro, c'era Melegoni che giocava nel Genoa, tra l'altro mi pare che ci abbia fatto pure gol in Coppa Italia quando c'era Pirlo e poi abbiamo vinto con gol di Rafià, quindi veramente tiriamo fuori delle partite allucinanti che forse era meglio lasciare nel dimenticatoio, andiamo sotto, rischiamo di andare sotto di 2-0 addirittura perché loro poi su calcio d'angolo hanno buona occasione, sprecano quasi a porta vuota il gol del 2-0, andiamo negli spogliatoi, girandola di cambi perché comunque l'importante oggi era cercare di mettere un po' nelle gambe tanti minuti, io tra l'altro pensavo potessero uscire soltanto i brasiliani e dare continuità di rendimento agli altri giocatori che erano rimasti in campo un po' sulla falsariga di quanto è accaduto con Scesni e Milik nell'altra partita, e attenzione monitoriamo Scesni perché a quanto pare ha avuto un problema al collo nel primo tempo e quindi poi è entrato Perino al suo posto, entran Gatti, Rugani, tra l'altro Rugani capitano per concludere il 2022 proprio al bacio, altri ragazzi, altri giovani rimangono in campo soltanto anche sulla destra, i Miretti a centrocampo, entrano Fagioli, Barnecea, entra Sule, Compagnon, entra Ening Junior e via discorrendo, la Juventus nel secondo tempo probabilmente qualcosa in più fa anche spinta dalla voglia di questi ragazzi e poi c'è un Sule che si presenta in buona forma fisica, in buona condizione, anche psicologica mi vengo da dire, con diverse giocate di qualità, a differenza di Miretti probabilmente che prende un palo nel primo tempo però in Miretti sapete cosa, lo dicevo anche prima in live, credo che stia mancando quella tranquillità che l'aveva sempre accompagnato in queste partite che aveva giocato con la maglia della Juventus, ricordiamoci sempre quando facciamo un discorso legato a Miretti, sempre un disclaimer importantissimo, è un 2003 a 19 anni, non ne ha nemmeno 20, li farà tra sei mesi circa, mi pare, forse sette, otto, perché mi pare che li faccia in estate, quindi stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo che quando aveva esortito con la Juventus sembrava essere un veterano e adesso probabilmente gli sta mancando quella tranquillità, credo che sia stata una sorta di mancanza di fiducia in se stesso dopo alcuni momenti, perché secondo me viene bocciato in quella partita col Benfica dopo quel ricore procurato in casa nostra, non riproposto per un po' di partite, poi buttato nella mischia, ma quando l'abbia rivisto poi l'ho visto veramente diverso come atteggiamento, quindi secondo me in questo momento Miretti più dal punto di vista fisico o proprio tecnico deve lavorare sulla sua testa, ma ribadisco, sempre quello che voglio ribadire, non c'ha neanche 20 anni e quindi non è che crisi Miretti è finito, è scarso, è un bidone, no, non è questo assolutamente, credo che debba ricominciare a ragionare dal punto di vista che è effettivamente un calciatore a prima squadra Juventus e che dovrà lottare per riprendersi il posto all'interno della squadra con della competizione comunque elevata, perché al centrocampo ci sono, abbiamo visto tantissimi nomi e per dire adesso sta venendo fuori anche Fagioli che sarà protagonista di Cremonese-Juventus, dato che la sua partita l'anno scorso la Cremonese l'ha portata in serie, è comunque anche uno dei protagonisti del centrocampo della Juventus delle sei partite da imbattuti, con quei gol a Lecce-Inter e quelle partite impressionanti, anche quella col PSG in Champions, quindi Fagioli sicuramente in un stato di forma eccellente e probabilmente un gradino avanti rispetto a Miretti nella giornata di oggi che nel momento attuale della stagione, Miretti che sbaglia anche un calcio di punizione tira anche abbastanza male, probabilmente Miretti ribadisco, in questo momento dovrà lavorare un po' di più sulla testa e accettare il fatto di essere un calciatore da Juve. Poi niente, dai, comunque tanti giovani che si sono visti all'opera, ripeto, partita sì, divertente se vogliamo, nel primo momento del primo tempo, perché la Juve sembrava voler fare un certo tipo di partita, bello rivedere i tifosi allo stadio, quello sicuramente, iniziamo a respirare un po' di Serie A, non ce ne frega niente del risultato, quello deve essere sempre in primo piano, abbiamo pareggiato, non abbiamo vinto, e vabbè, namichevole, ragazzi, dai, su, non diciamo queste cose, che infatti quando poi si facevano i conteggi delle vittorie di fila della Juve, i minuti di imbattibilità, le gare di imbattibilità, mi veniva da ridere, perché stiamo parlando di namichevole, non le possiamo assolutamente contare, però per fortuna l'attesa è finita, queste cose le possiamo prendere e buttare nel dimenticatoio, perché non ci torneranno più fuori, il mondiale è finito, la pausa è finita, e adesso si torna a lavorare per giocare, finalmente, delle partite di Serie A, si parte col botto, perché c'è il Napoli che gioca con l'Inter, poi la Juve tra una ventina di giorni va proprio a Napoli, Chiesa non faceva parte di questa amichevole, perché è stato deciso di continuare il lavoro personalizzato, la continuasse, quindi si è andato a vedere la partita pure lui, speriamo che possa essere recuperato e recuperabile, appunto, per giocare una partita ufficiale, cosa che probabilmente non farà Vlaovic nelle prime partite dell'anno nuovo, proprio per questo continuo problema di pubalgia che continua a portarsi dietro a un po' di tempo, brutta bestia, la pubalgia, non ci saranno gli argentini, vedremo se ci sarà Rabiot, probabilmente sì, perché avrà qualche giorno di lavoro in più a disposizione, magari non da titolare, però dovrebbe essere quantomeno convocabile, bene o male, credo che la formazione con la cremonese sarà la stessa iniziale di oggi, col dubbio fagioli per Miretti per occupare l'ultimo posto a centro campo, e questo è, però permettetemi di chiudere il video, anche in questo caso purtroppo con un pensiero, come è stato fatto all'inizio di questa partita, quindi il minuto di silenzio nei confronti di Pelé, che è scomparso ieri, quest'anno 2022 si è portato via diversi volti noti legati al calcio italiano e non solo, calcio anche mondiale, storia del calcio appunto come Pelé, e dispiace, sapevo che non era nel suo miglior momento di forma fisica, però poi quando queste cose vanno a concretizzarsi è sempre un giorno molto triste, ed è stato bello vedere Juventus e Standard Diegi dedicare un minuto di silenzio a una leggenda del calcio, veramente leggenda nel vero senso della parola, che ha scritto pagine indelebili della storia di questo sport, ed è riconosciuto come uno dei più grandi della storia. Un peccato non averlo visto giocare, però l'età è quella che sono nato un po' troppo tardi. Ragazzi, direi che ci vediamo domani per l'ultimo video dell'anno, nel caso in cui non dovessimo vederci, tanti auguri, ma vedrete che poi domani qualche chiacchiera conclusiva per l'anno 2022 la faremo sicuramente.